Botta e risposta della Sicula Trasporti alla mozione presentata dalla consigliera comunale Maria Consolo del Movimento 5 Stelle sulla realizzazione che la Sicula Trasporti dei Leonardi vuole realizzare incontrata a Coda Volpe in territorio di Catania, ma a poche centinaia di metri dalle abitazioni in cui ritiedono migliaia di lentinesi. Una dettagliatissima richiesta di impegno rivolta all'amministrazione comunale dei Valentini affinché si attivi in ogni sede possibile al fine di opporsi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, tenuto conto delle criticità che il relativo progetto presenta soprattutto per la salute pubblica e l'ambiente. Replica Carmine Spina, amministratore delegato di Sicula Trasporti. Fatto salvo, continua ancora Carmine Spina, che alle criticità emerse in questa fase, Sicula Trasporti sta lavorando da subito, atteso che tale progetto può solo portare benefici, anche in termini occupazionali, al nostro territorio. Sicula Trasporti, continua Spina, ritiene di poter tranquillizzare la signora Maria Consolo, cittadina eletta al Consiglio Comunale dei Lentini per il Movimento 5 Stelle, in merito alle refluenze che l'impianto avrebbe sul comune di Lentini. Il gasificatore, infatti, sorgerà sul territorio del comune di Catania. Comprendo l'iniziativa della consigliera Consolo, conclude Carmine Spina, amministratore delegato di Sicula Trasporti, e posso assicurare che il territorio sta a cuore anche a noi. L'idea di puntare sul gasificatore nasce proprio in questa ottica, perché prima o poi le discariche anti-economiche e difficili da gestire andranno ad esaurirsi e la spazzatura dovremmo comunque metterla da qualche parte. Non certo sotto lo zerbino, afferma ancora Spina. Il nostro progetto prevede tecnologia all'avanguardia che solo in Giappone vengono utilizzate. La consigliera sappia che tutto questo è fonte di ampia garanzia e sicurezza non soltanto per i catanesi o i lentinesi, ma per tutti i siciliani.